La tua abbronzatura vi fa impazzire? Sì, tanti canzio, per piacere Per piacere, eh? Pronto? Pronto? Mi sente? Io la sento, dica La sua abbronzatura mi fa impazzire, signora Ah, 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 bronzatissima Sotto i raggi del sole Signora? Bello, sì, l'ascolto A due passi dal mare Tutto bene? Ma chi è lei? Dunque, sono il, come dire Qui è la Friglia Allegra, signora Sua Asti Cenaselli, pesciaiolo E devo portare quei cazzi di mare, signora Ma lei si è sbagliato, guardi Ma come? Ma come si è sbagliato, signora? Asti Cenaselli, della pescheria La Friglia Allegra Sì, ma si è sbagliato persona No, no, guardi Lei mi ha ordinato 5 kg di cazzi di mare E li devo portare, signora Ma dove? Eh, ma io guardi Ma signora, l'ordinazione è bella È pronta, gliene porto Tanto so, è roba buona sta È roba fresca, le ho porto? Le ho porto Ci siete fra un pochino Arrivederci, signora Buongiorno Buongiorno Sono riuscita a vendere 5 kg di cazzi di mare Ma vi rendete conto? Alli porti Ah, la signora Cazzi Grazie Mh, mh, mh Mh, mh Grazie a tutti